La città di Teramo dice addio ad una delle sue attività storiche, perché dopo oltre 20 anni Antonio Topitti ha dovuto gettare la spugna, chiudendo definitivamente i battenti alla sua libreria La Sapienza. Nella giornata ieri, dopo aver cessato a gennaio le vendite, Topitti ha finito di svuotare il locale, tirando giù le saracinesche del negozio che ha gestito nell'ultima fase della sua attività ultra quarantennale. Per me è stata un'esperienza esaltante, oltre 20 anni a vendita di libri a posto fisso, in più punti della città di Teramo e anche a livello provinciale lungo la costa, a Pineto, Roseto, per oltre 20 anni e gli ultimi 5 anni anche ad Arbatriatica. Purtroppo però la situazione economica si è talmente deteriorata in rapporto al mercato del libro indipendente che la cosa non era più possibile portarla avanti. Purtroppo nell'ultimo decennio la cosa, dal 2007 in particolare, da quando è iniziata la crisi internazionale in concomitanza con l'apertura del centro commerciale a Teramo, che ha spostato non poco l'asse commerciale verso quell'area, soprattutto nei fini settimane, che nel mio campo purtroppo ha portato sempre a una diminuzione del fatturato. Il colpo finale me lo ha dato i lavori di Corso San Giorgio, che per la lungaggine e poi forse coincise anche con un'ulteriore crisi del mercato librario a livello di indipendenza. Adesso cosa farà? Per il momento, avendo riconsegnato materialmente proprio nella giornata di ieri le chiavi del locale alla proprietà, ad oggi sono attivato, per quanto riguarda l'associazione Ampli, ho metabolizzato anche il dolore della chiusura dell'attività, ma in particolare della libreria, perché per me, nonostante oggi io materialmente e finanziariamente, per dirla fino in fondo, sono molto più povero di 20 anni fa, però sono più ricco sotto l'aspetto umano, culturale e sociale, perché in questa esperienza è cresciuto un rapporto con la società civile di Teramo, ma in realtà anche di tutto il condato provinciale, dai mondi fino al mare.